eccoci qua ragazzi finalmente siamo qui con la decorazione in collaborazione con Kika73 ciao Erika un grosso bacione e questa volta il mese di giugno non siamo riuscite a farla per via di dei miei problemi io e quindi non siamo riuscite a a farla ma quindi giugno il video di giugno è andato sotto l'uscio però quello di luglio da luglio in poi riprendiamo questa decorazione allora la settimana è quella che va da quella di luglio dal 2 di luglio all'8 eccoci qua perfetto allora per decorare la settimana usiamo questi Washi della Lidl che ho preso tre anni fa si dovrebbe essere tre anni fa ma ne ho ancora quindi continuo ad utilizzarli e poi useremo degli stickers da questo libretto 100% stickers dell'ape junior questi qua con tutti gli animalettini vedete che carini quindi sarà un po un po soft a tema animale non ho ne ancora forse così li vedete scusate mi ho sbagliato nel linguaggio qua vedete ci sono tutti gli animali per problemi di stampante sto a questo periodo userò questi qua già fatti finché non ho sistemato bene il tutto non potrò neanche pubblicare quello che uso nella pagina printable pulciosi chiedo scusa del disagio allora ho notato che qualcuno ha cancellato dei miei video da youtube io volevo dire a quella persona se vede il video che ho già preso dei provvedimenti che non gli venga voglia di cancellarne degli altri e io ora i video che sono stati cancellati non li ho più quindi non li posso ripubblicare se in quelli cancellati c'erano dei video che a voi interessavano e vorreste rivedere ditemelo che cercherò di rigirarli al piuttosto detto comunicazione di servizio fatto noi passiamo alla vera e propria decorazione allora 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 ciao allora ciao 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 Grazie. 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 La decorazione è già a posto. Guardate con dei bei animaletti, coricini e zanzettine. Quindi mi raccomando ragazze, io ringrazio sempre Kicca73, cioè Erika, per avermi dato la possibilità di fare questa meravigliosa collaborazione. Io vi mando un grosso bacione a tutti. Ciao tesoro. e se volete rivedere dei video che sono stati cancellati ditemelo che io cercherò di, se mi è possibile, di rigirarli spero che il video vi sia piaciuto ormai ho già ripreso, ho già pubblicato quello della video ricetta con la macchina del pane adesso c'è la decorazione e adesso mi sa che riprendo via dei video non so se una volta o due settimane, adesso vedo che il tempo, quello che mi permette comunque tutte le settimane sicuro un video ci sarà alla domenica vedrò di postarne uno anche magari al mercoledì in modo che siano due quindi ragazzi io ringrazio tutti i nuovi iscritti quelli che mi seguono da vecchia data vi lascio un grosso bacione e mi raccomando date a vedere KIKKA73 sul suo canale che vi lascio il link giù nell'infobox perché è bravissima noi ci vediamo in prossima ciao